Allora, ragazzi, non potete dire altro che è un bellissimo giro, perché qui Foto Itinerari questa volta ha veramente infezionato, no Max, qualcosa di straordinario. Quante volte, vorrei sapere quante volte uno di voi ha fatto foto da una gondola a Venezia, mai nessuno penso, io non l'avevo mai fatto e quindi questa è una grande occasione per fare ottime foto da un punto di vista a pelo d'acqua magnifico. Foto Itinerari Venezia! Foto Itinerari Venezia! Foto Itinerari Venezia! Foto Itinerari women Foto Itinerari Venezia! Foto Itinerarienos! Foto Itinerari Venezia! Foto Itinerari Venezia! Grazie a tutti